con l'imminente arrivo di playstation 5 sony ha aggiunto un terzo gioco incluso con il playstation plus di novembre 2020 i possessori di playstation 5 infatti potranno scaricare bug snacks a partire dal 12 novembre giorno di lancio della nuova console sony bug snacks è un'avventura che ci permetterà di esplorare un'isola molto particolare popolata da strane creature metà insetto e metà snack passando a playstation 4 gli altri due titoli inclusi con l'abbonamento saranno la terra di mezzo l'ombra della guerra e hollow knight l'ombra della guerra ha ottenuto un metascore di 80 su metacritic il gioco include 52 trofei in tutto tra cui 49 offline e 3 online l'intera avventura potrà essere giocata alla difficoltà più semplice per sbloccare comunque i trofei il secondo titolo per playstation 4 di questo mese è hollow knight l'action adventure del team sherry ha ottenuto un ottimo 90 su metacritic il gioco ha un platino molto difficile da ottenere che richiederà tanto tempo e molta abilità per sbloccare i 35 trofei offline che ha da offrire entrambi i titoli saranno disponibili per il download a partire dal 3 novembre 2020 ecco quindi i titoli offerti da sony con il playstation plus di novembre 2020 personalmente ritengo l'ombra della guerra e hollow knight due ottime scelte e di grande qualità e voi cosa ne pensate dei giochi di questo mese fatemi sapere la vostra nei commenti e non dimenticatevi di iscrivervi al canale tramite il pulsante sottostante e attivate la campanellina delle notifiche per non perdere i nuovi video in uscita grazie a tutti per aver visto questo video e ci vediamo con il prossimo sul canale di safutobu ciao a tutti iscriviti al canale